Eccoci nei video pronostici dell'evento più importante dell'estate, ovvero Summerslam 2024. Uno statement importante, visto che abbiamo avuto gli europei di calcio, e attualmente sono in corso delle Olimpiadi, ma non importa qualcosa? No, perché noi guardiamo il wrestling. È anche un evento con un superposter, cioè solo sicò sembra anche avere una personalità in questa immagine. Dunque non perdiamoci in chiacchiere, Naya Jax contro Bayley, match per il titolo femminile di SmackDown. Diciamo che Bayley, nonostante sia una delle mie atlete femminili preferite, da quando ha vinto il titolo non ha combinato sostanzialmente nulla. Non so quale sia il suo personaggio, dopo la vittoria contro Yosuke è diventata presumibilmente una face, ma non ce l'hanno mai fatto capire più di tanto, solo che è contro Naya Jax che è una heel certificata, e dunque dovremmo ti fare per lei, suppongo. Non capisco in che parte sia della card, non capisco quanto sia importante al momento, l'unica cosa che capisco è che probabilmente perderà la sua cintura contro Naya Jax, perché se c'è una cosa che va recriminata alla gestione Triple H è un po' la prevedibilità delle cose, e sono riuscito a dirlo nella maniera corretta al primo colpo, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Dunque, quello che ci sta telefonando Triple H, secondo me, è la vittoria di Naya Jax e il tradimento di Tiffany Stratton, perché con la valigetta, boh, sembra sempre pronta ad incassare, e questa alleanza tra la Barbie e Naya Jax non sembra destinata a durare poi molto. Spero in un regno di tiffi già da Summerslam, vittoria di Naya Jax, incasso di Tiffany. Sarebbe perfetto. Match per il titolo intercontinentale tra Sami Zayn e Brom Breaker. La sconfitta Money in the Bank ha fatto sicuramente male a Brom Breaker, che ne è uscito come un pirla e un pochino ridimensionato perché ha perso come un rookie, con un solo il luba kick, a memoria. Vabbè, comunque sia, la storia che ci stanno raccontando è di un Brom Breaker che non ha preso seriamente Sami Zayn, che è più uno stand-up comedian che un wrestler, ora è concentrato e pronto a distruggere il canadese e a portarsi a casa la cintura. Ed è anche il mio favorito, onestamente. Anche perché non credo che possa ottenere un'altra title shot nel caso dovesse perdere. L'intento della WWE è quello di far apparire il cagnaccio come un futuro dominatore dell'intero business, e se la sua run del main roster parte con una rivalità persa per un titolo secondario, tra l'altro, è un po' una zappa sui piedi. Attenzione poi che se dovesse tornare Roman Reigns, Sami Zayn potrebbe uscire dal giro titolato intercontinentale per supportare la parte buona della Bloodline. Già ci hanno suggerito un tag team, un'alleanza con Jey Uso nelle ultime due puntate di Raw. Non rivedere Mr. Usay contro il resto della nuova Bloodline sarebbe un po' strano, quindi dico che vincerà Brom Breaker. Match per i titoli degli Stati Uniti Logan Paul contro LA Knight, per quanto, come sempre detto, io impazzisca per Logan Paul, è tempo di togliere quella cintura. È campione da quasi 300 giorni e la difesa ben due volte. Direi che deve finire tra le mani di un performer attivo, perché altrimenti il titolo viene completamente svalutato dalla WWE e penso che la WWE lo sappia. Logan Paul è spettacolare, ha un sacco di talento, attira un sacco di fan, è nato per fare l'entertainer, ma non è un wrestler full time. E soprattutto SmackDown al momento fa schifo, ha bisogno di ricostruirsi dalle fondamenta e serve anche un campione secondario presente ed Ellen Knight mi sembra. L'identikit perfetto per questo ruolo, è super over, è bravissimo al microfono, sul ring se la cava, e ancora non ha ottenuto un vero e proprio momento importante da quando è diventato Ellen Knight, dopo la faida contro Bray Wyatt. Dunque, dategli questa cintura. Passiamo all'incontro valevole per il pipino di Dominic Mysterio, no, sbagliato, scusate, per il titolo femminile di Raw, Liv Morgan contro Rhea Ripley. Una Rhea pronta a riprendersi la cintura, si è già ripresa il suo latino hit, quindi perderà, secondo me. Perderà perché Dominic Mysterio farà casino, non so se in maniera involontaria, come è successo con Becky Lynch, o se volontariamente, riallineandosi con Liv. Magari sarà un processo graduale, quindi non direttamente a Summerslam. Poi c'è anche un Finn Balor che sembra un po' uno stronzetto dietro le quinte. Credo che il Judgment Day abbia i giorni contati, perché Damian Priest è palesemente un face, mentre il resto della stable dovrebbe essere il, anche se è tifatissima. Finn Balor, come detto, mi sembra il juda della situazione, tra il nascondere la card dell'hotel di Liv, l'essere sempre sul piede di guerra, o il sentirsi in secondo piano, come nell'ultima puntata di Raw quando ha detto lasciatemi stare contro Gunther, farò da solo come farete voi a Summerslam. C'è qualcosa che non va nell'irlandese. Secondo me, a far vincere Liv Morgan sarà Dominic Mysterio in maniera ambigua, ci lascerà col dubbio del L'avrà fatto apposta? Vuole Liv Morgan? O è davvero un errore genuino? Però è una delle storyline più hot del momento, non credo che terminerà Summerslam, vorranno allungare il brodo e se la porteranno sicuramente avanti. Dico che vincerà Liv Morgan, per un errore slash intromissione di Dominic, oppure tirandola per i capelli di Finn Balor. Match per il titolo mondiale dei pesi massimi di Raw, restiamo in tema Judgment Day, Damian Priest contro Gunther, il Ring General, che prima di quest'ultimo mese mi sembrava il favorito numero uno per quella cintura, dopo la vittoria del King of the Ring, dopo il suo regno incredibile da campione intercontinentale. Ma no, ora no. Damian Priest è cresciuto esponenzialmente da quando è buono. Il suo regno è assolutamente accettabile, anche perché il suo personaggio si è sviluppato a una velocità impressionante. Io sono un grandissimo fan di Damian Priest. Prima lo vedevo come l'omone, grande, grosso, atletico, un performer onesto, però al microfono non mi convinceva poi così tanto, e mi sembrava in ombra rispetto a Ria Ripley come leadership nel Judgment Day e a Finn Balor come performance sul Ring. Invece adesso mi sembra lui a tutti gli effetti il leader della stable nero-viola. I segmenti nel backstage hanno aiutato tanto, secondo me, però appunto davvero i miei 5 euro su Damian Priest a Summerslam, anche perché probabilmente la cintura nelle mani di Gunter ci finirà, anche presto, c'è l'evento a Berlino, tra poco, quindi non sarebbe poi così strano davanti al pubblico quasi di casa Austria-Germania. Un trionfo di Gunter. Quindi dico Damian Priest, in un ottimo match. Passiamo a Cody Rhodes contro Solo Sikoa per il titolo WWE. Allora, potrei dire Cody Rhodes vincerà, tanti cari saluti, e passare al prossimo match. Però devo arrivare a un minutaggio sufficiente per monetizzare questo video. Quindi Cody non perderà il suo titolo contro Solo Sikoa. Oppure sarà l'upset del secolo, chi lo sa. Comunque non vedo Solo Sikoa pronto per diventare campione del mondo e soprattutto non credo che la storyline della bloodline New Generation 2.0 sia destinata ad un regno titolato. Non so come andrà il match di SmackDown, questo video lo sto registrando addirittura giovedì, quindi magari ci saranno altri 15 match inseriti nell'ultima puntata dello Show Blue, ne dubito. Magari quello di coppia femminile, ma chi se ne fotte. Ma tutte le provocazioni di Solo Sikoa, nell'ultimo periodo, soprattutto indirizzate a Roman Reigns, mi fanno pensare ad un ritorno del vero Tribal Chief, perché Solo Sikoa Tribal Chief, dai. Ehi, ma è del mestiere questo? Spero tantissimo in un ritorno di Roman Reigns a Summerslam, però voci dell'ultimo minuto dicono che addirittura potremmo vedere The Rock, che ha terminato i suoi impegni ad Hollywood, coinvolto nell'evento più importante dell'estate. Allora, io punto il mio centesimino, perché ho finito i soldi dopo i 5 euro di prima, su Roman Reigns. Credo anche che questa nuova stable sia guidata in realtà da The Rock, e questo porterà al clash tra Roman Reigns e The Rock prima o poi, probabilmente avreste il menu a 41. Vedremo se nel tag team match della Bloodline si vedrà Jimmy Uso, per esempio. L'unica cosa di cui sono certo è che Cody Rhodes uscirà da Summerslam come campione del mondo. Eccoci, l'ho detta, perde il titolo, muore, no? Sgrazzando. Possiamo dunque terminare con CM Punk contro Drew McIntyre con Seth Rollins arbitro speciale. Beh, direi che questo match si è fatto praticamente da solo. Abbiamo due dei migliori performer dell'ultimo ventennio, ma facciamo decennio, no un po' di più, degli ultimi 15 anni. È la faida più infiammata dell'intero business, ce l'hanno raccontata benissimo sotto ogni punto di vista. C'è Delew McIntyre che ha quest'ossessione, che si trasforma quasi in un troll di internet, che stronca il sogno di CM Punk avrestlemania e ne paga tutte le conseguenze, e lo stesso CM Punk invece che in ogni modo ha fregato Drew McIntyre portando lo score decisamente a suo favore nonostante non abbia mai combattuto per l'infortunio, è perfetta. Oggettivamente perfetta. Difficile trovare altri aggettivi per questa storyline, per questa rivalità. C'è un Seth Rollins da arbitro, che potrebbe essere un punto focale della contesa, ma secondo me non sarà determinante per la vittoria finale. Si comporterà abbastanza bene, si incazzerà con entrambi i performer, credo, perlomeno. Ritorno di CM Punk in un premium live event dopo più di dieci anni, e questo potrebbe essere il cardine della sua vittoria a SummerSlam, perché Drew McIntyre negli ultimi anni ha vinto tanto, è stato uno dei performer più importanti della WWE, CM Punk è fuori da tanto tempo, devono spolverare un po' la nostra memoria, ricordare a tutto il pubblico chi è CM Punk, cosa ha fatto CM Punk e cosa rappresenta soprattutto nel mondo del wrestling. È il migliore del mondo, era. Adesso è il migliore del mondo a spaccarsi dopo circa due match, però guardando con l'occhio della telecamera, sospendendo l'incredulità, è il migliore del mondo. E devono farcelo capire, non è il migliore del mondo a fregare gli altri performer, è il migliore del mondo quando è sul quadrato, quando ha un microfono in mano, quando commenta un match. Dunque ce lo dimostrerà e vincerà contro Drew McIntyre. E secondo me l'inclusione di Rollins non è casuale. Prima o poi avremo anche un triple threat tra questi tre, sperando che il buon Phil resti integro, intero e intatto, anche perché abbiamo visto 200.000 video dei suoi allenamenti, speriamo servano a qualcosa. Dunque vado con la vittoria del best in the world. Potrei piangere, ve lo dico. Probabilmente mi provocherà virili lacrimucce. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti i vostri pronostici per SummerSlam 2024, dal vostro certified way è tutto, ci vediamo con l'analisi di SmackDown domani, con l'analisi del pay per view. Oddio l'ho chiamato così, adesso mi licenziano. Non sono dipendente da WWE, non ancora. No, non è vero. Domenica e boh, poi vediamo se sopravvivo. Ciao.